Il città di Teramo ha reso noto che la prevendita per la gara di domenica è regolarmente partita in vista della sfida tra Teramo e Folgore Delfino Curi Pescara, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Bonolis, valevole per la quarta giornata del campionato regionale di eccellenza. E' già uno scontro diretto tra due squadre a punteggio pieno e l'esterno destro di centrocampo Marco Cutilli, classe 2005, sogna un'altra rete dopo quella realizzata in Coppa. Allora io mi sono ambientato subito e adesso sto continuando ad allenarmi serenamente e a vivere serenamente proprio il Teramo e come ruolo io mi trovo bene perché già l'ho fatto due anni fa e l'ho fatto anche l'anno scorso e quindi ormai diciamo che non ho problemi a rivolgere questo ruolo. Proiettiamoci già a domenica, è un po' il primo snodo importante di questa stagione perché la classifica dice che comunque la Folgore ha i vostri stessi punti, lo vivete un po' come uno scontro diretto? Certo, sarà una gara molto difficile anche perché già l'abbiamo incontrata in Coppa Italia e adesso dobbiamo essere bravi come diciamo nella seconda gara perché nella prima abbiamo sofferto molto e adesso dobbiamo essere bravi perché la Folgore è una grande squadra e non dobbiamo sottovalutare nessun aspetto. Oggi e domani sedute pomeridiane di allenamenti al Bonolis ma a porte chiuse e francamente non se ne comprende il motivo da chi nasce questa decisione e di certo non rappresenta un'apertura verso la città. Cangemi sta meglio ma non verrà rischiato per domenica e dunque conferma per il difensore Cipolletti in difesa. Ieri pomeriggio alle ore 16.30 alla presenza del sindaco Gianguido D'Alberto, degli assessori Cavallari Ferri e Filipponi e del consigliere Falini è stata riconsegnata la seconda parte dei lavori che ha interessato il blocco spogliatoi al campo Besso di San Nicolato Ordino. Poi a seguire lo svolgimento del memorial dedicato a Sergio Quirino Valente con un torneo di calcio tra gli avvocati, il CSI e il Comune organizzato proprio dal CSI Teramo, attuale gestore dell'impianto. Grazie.